Piero Orlando Perino, qua nella doppia veste di sindaco di Proscorsano e di presidente dell'Unione Montana Valgallenca. Oggi una giornata particolare e importante perché è stato inaugurato il nuovo Scuolabus. Assolutamente sì, abbiamo avuto l'onore di poter freggiarci di questa inaugurazione. È stato un acquisto importante per le nostre comunità, sostituiamo due mezzi che ormai erano datati. Grazie a un contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT siamo riusciti a chiudere questa operazione che davvero rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Abbiamo già utilizzato questo mezzo per un po' di mesi, a causa delle condizioni che tutti conosciamo abbiamo protratto un po' questa inaugurazione che però siamo davvero onorati di poter fare oggi. Tra l'altro prima hai parlato anche durante il taglio del nastro del fatto che questo è anche un acquisto dettato dalle esigenze non solo del Comune di Proscorsano ma di tutta la valle. Sì, noi gestiamo la scuola sia primaria che dell'infanzia da penso un ventennio ormai con i Comuni di Canisca e San Colombano condividendo gioie e dolori come si suol dire, quindi dalla suddivisione dei costi a qualsiasi progetto che viene messo in piedi. È un onore anche in questa occasione dire che se le nostre comunità riescono a lavorare insieme si possa ancora fare la differenza. Infatti hai detto una cosa fondamentale, quella di la collaborazione. Quanto è importante collaborare tra piccoli Comuni del territorio canavesano? È l'unico modo per provare a essere ancora sul pezzo e più che altro per essere bravi. Noi dobbiamo riuscire a offrire dei servizi competitivi e per fare questo l'unico modo è davvero stringere sinergie e riuscire a mettere a fattor comune quelle che sono le risorse sia economiche che umane anche perché i dipendenti e comunque gli operatori che lavorano nei nostri comuni sono pochissimi e quindi solo facendo in modo che possano essere tutti allineati si riesce davvero a ottenere i risultati sperati. Oggi è una giornata anche particolare nel senso che si vengono presentati anche quelli che saranno i prossimi servizi del mondo scuola per quanto riguarda il territorio. Esatto, proprio per cercare di offrire più opportunità alla nostra popolazione dal prossimo anno, quindi dall'anno scolastico 22-23, svolgeremo dei servizi aggiuntivi rispetto all'orario scolastico, quindi inseriremo un pre-scuola dalle 7.30 e cercheremo di chiudere tutti i pomeriggi alle 18 con un posto scuola. È un impegno economico e organizzativo importante, ringrazio la direzione didattica nella persona della nuova dirigente Oria Michelli perché effettivamente anche lei ha creduto molto in questo progetto e può essere davvero un modo per far sì che le nostre scuole continuino a essere piene di ragazzi e si contrasti un po' quello che è il calo demografico che colpisce non solo i nostri paesi ma tutto il territorio del nostro Piemonte.